Il rumore o disturbo è un effetto che si ha sulle foto quando si scatta con un ISO molto alta e in genere si scatta con un ISO molto alta in caso di scarsa luminosità. In questa foto che ho appunto scattato con bassa luminosità e quindi con una ISO molto alta si è creato molto rumore e mi avvicino bene per farvi vedere cosa intendo dire. Non so se lo vedete ma ci sono tanti puntini, questi puntini sono proprio appunto il cosiddetto rumore o disturbo. C'è un modo in Affinity Photo per rimuovere questo rumore, ovviamente non verrà mai rimosso del tutto però si può diminuire molto. Per farlo dobbiamo andare qui nei nostri livelli e cliccare su filtri live, qui sotto ci sono delle iconcine, questa qui più a destra si chiama filtri live. Una volta che ci clicco sopra ritrovo tra le diverse opzioni rimuovi disturbo e mi si apre questo pannello. E ora dovete vedere molto bene perché in realtà quando andiamo a rimuovere il disturbo le modifiche possono sembrare anche minime soprattutto se mettiamo la foto più distante. Quindi ora mi ci avvicino molto bene e cosa faccio? Io semplicemente adesso tiro su tutti questi cursori. Li tiro su perché cerco di levare tutto il rumore possibile, immaginabile. Vedete cosa succede soprattutto ora qua su colori, non so se lo notate come mi viene perso sia questa granulosità della foto. Però quando io rimuovo il rumore mi vengono eliminati anche dei dettagli della foto e mi diminuisce in qualche modo la nitidezza. Quindi in realtà io adesso per farvi vedere come si fa metto tutti i parametri al massimo. Però in realtà poi in base alla foto che avete voi dovete anche regolarvi, non dovete sempre mettere tutti i parametri al massimo perché ad esempio magari su un volto vedete che perdete veramente troppo dettaglio e la pelle magari diventa molto liscia. Quindi adesso io ho eliminato tutto il rumore che potevo dalla mia foto. Però sempre riavvicinandomi anzi andiamo a vedere cosa ha comportato questo. Ora io ho rimosso il rumore e l'opzione è attiva. La posso anche disattivare. Sono sul mio livello a cui ho applicato il rumore e apro il menu a tendina e vedete che ho la riduzione del disturbo. Io posso fleggare e defleggare questa opzione. Vedete quanto è appuntini la foto adesso che la riduzione del disturbo è disattivata. Quando la riattivo vedete che differenza che c'è, c'è un'enorme differenza. Sono andata a levare veramente molto disturbo. Nel caso di questa foto soprattutto perché non ci sono persone, è solo un ambiente, allora va benissimo anche questa opzione di tirare tutto al massimo e levare più disturbo possibile. In caso di altre foto dovrete giocare voi con i cursori, avvicinarvi al punto di interesse maggiore e vedere come viene la differenza su quel punto e quindi poi decidere i vostri parametri proprio andando come sempre a provare e riprovare. Se questo video ti è stato utile ti ricordo di mettere un mi piace e di iscriverti al mio canale. Anche per oggi è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!